Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema riguardo alla condivisione della stampante che non funziona collegandola anche al video quindi in questo caso è possibile risolvere il suo problema andando sempre su pannello di controllo pannello di controllo andiamo su visualizza attività e stato della rete andiamo su modifica impostazioni di condivisione avanzate potevo anche farvi vedere sull'impostazione di rete e internet per quelli invece che hanno ancora Windows 7, 8, 8.1 i passaggi sono sempre questi sul pannello di controllo modifiche impostazioni di condivisione avanzate una volta fatto qui c'è scritto condivisione file stampanti quindi se questa impostazione è disattivata bisogna attivarla così facendo consentiamo anche ad altri utenti della rete ad accedere ai file stampanti e di condividerli per questo dispositivo quindi chiudiamo un attimo qua come secondo passaggio andiamo direttamente su servizi ed eccolo qua cerca sulla barra della ricerca fai servizi entra così nei servizi scendi fino a giù fino a trovare lo spooler di stampa eccolo qua se questo servizio è interrotto quindi se ce l'hai arrestato la condivisione della stampante non funziona non va neanche la stampante proprio collegandola al computer quindi stato del servizio metti avvio tipo di avvio metti automatico se non dovesse andare puoi sempre metterlo manuale automatico e fai applica una volta fatto questo chiudi qua e riavvia il sistema se avete altri problemi riguardo alla condivisione o al problema alla stampante che non funziona collegata al computer commenta sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao